Previsioni per il 21 ottobre. L'annuvolamento politico di questo momento ha reso le nostre montagne molto instabili. Sul Trentino, il rischio di instabilità dovuto a rivoluzioni di partiti nazionali potrebbe portare alla caduta di identità storica, di eccellenze del territorio, dei servizi di qualità, tradizioni e, infine, la totale perdita dell'autonomia. Il 21 ottobre, nessun ribaltamento. Scegli l'autonomia. Vota le stelle alpine. Ugo Rossi, presidente. Grazie.